Il vice sindaco del comune di Carlentini ha accolto, Salvo la Rosa, ha accolto 400 studenti che partecipano al festival della filosofia che in questi giorni si sta celebrando tra Siragusa e Ragusa. Hanno fatto capo a Leontinoi grazie all'intercessione del presidente dell'Arco Club di Carlentini, il professor Alfredo Sgoi, come responsabile anche della cultura dell'istituto Vittorini Gorgia di Lentini e del preside Vincenzo Pappalardo. Accogliere 400 ragazzi a Leontinoi, nell'antica città di Leontinoi, è stata sempre un'emozione? È veramente una gioia vedere oggi tutti questi ragazzi da più parti d'Italia che arrivano qui, passeranno la giornata qui a Carlentini nel nostro parco ed è veramente bellissimo vederli qui. Abbiamo raccontato brevemente già nell'accoglienza un po' la storia degli ultimi anni, ovvero l'ottenimento del risultato dell'istituzione del Lenteparco, gli scavi che abbiamo avviato grazie anche alla collaborazione fra Lenteparco Leontinoi e l'Università di Tolbergata. Abbiamo raccontato la storia, ovvero ciò che qui si è vissuto, la storia che arriva da 2750 anni fa dell'istituzione della fondazione di Leontinoi e adesso i ragazzi visiteranno e percorreranno i luoghi del nostro parco ed è veramente una gioia poterli avere qui. Ritorneranno anche nei prossimi anni ed è un appuntamento che sicuramente potrà diventare molto importante per la nostra città.